Gli aratri avevano cancellato le superficiali impronte dei rivoli di scolo. Le ultime piogge avevano fatto rialzare la testa al grano turco. Agli ultimi di maggio il cielo perdette le nuvole. Il sole prese a picchiare sempre più sodo sulle piante, finché vide ingiallire gli orli di ogni singola foglia. E venne giugno, il sole diventò selvaggio. Gli uomini nei campi levavano inutilmente gli occhi verso il cielo. La polvere turbinò per i campi. Il gran turco flagellato emetteva suoni secchi e rovinosi. La notte fu nera come l'inchiostro, ed il vento impazzò, lasciando trazza al suo passaggio al pari di una nave tra i flutti. L'alba venne, ma non il giorno, e il vento fischiò ed urlò sul gran turco abbattuto. A metanotte il vento si allontanò. Fu il silenzio ad estare gli uomini. Al mattino gli uomini uscirono dalle case. Non parlavano, si muovevano appena e guardavano il grano turco rovinato. Le donne guardavano i loro uomini per vedere se era questa la volta che si sarebbero dati per vinti. Dopo un poco, i visi degli uomini perselo la loro stupefatta perplessità, ma acquistarono un'espressione dura, collerica, ostile. Allora le donne capirono che erano salvi, che gli uomini non si davano per vinti, e ardirono a domandare Cosa facciamo? I latifondisti arrivavano sul posto in macchina e saggiavano con le dita la terra arida. Finito il giro, venivano sull'aia senza scendere dalle vetture. Parlavano i mezzatri attraverso il finestrino. Se il proprietario della terra era una banca, i rappresentanti dicevano La banca intende, la banca vuole. La banca esige, la banca bisogno. Quasi fosse un essere mostruoso che li teneva, prigionieri, schiavi tra i suoi tentacoli. Erano orgogliosi di essere schiavi di così possenti e inesorabili padroni. E spiegavano il punto di vista del mostro. Sì, ma se un anno manca il raccolto, la banca deve aiutarci con i prestiti. Oh, ma la banca non può. La banca respira dividendi. Mangia interessi. Senza interessi muore. Come voi senza la polenta. Mio nonno, questa terra l'ha dissodata. Mio padre c'è nato. Ha lottato contro le erbacce e i serpenti. E quelli sono i nostri figli. La mezzadria non funziona più. Un uomo solo, sulla trattrice, ora sostituisce dodici famiglie. Gli si dà un salario e la compagnia prende il raccolto. La compagnia lo distribuisce. La compagnia dà dividendi. La compagnia dà ricchezza. La compagnia, la compagnia. La compagnia. Potete ottenere un sussidio. Perché non andate al sud? Vi hanno bisogno di mano d'opera. E arrivarono le trattrice. Mostri dal grifo appuntito che procedevano in linea retta entro nuvole di polvere. Superando palizzate e cortili abbattevano le case e stirpavano gli alberi. Squarciavano la terra. I dischi bibisezionavano la terra come un chirurgo. Rilucevano le lame taglienti. Rilucevano le lame taglienti. E si arrivava alla mititura senza che nessun essere umano avesse sbriciolato con le mani le tiepide zolle. La terra s'apriva sotto il ferro e sotto il ferro inaridiva. Nessuno c'era più ad amarla o a odiarla. Nessuno più la supplicava o la malediceva. 1929 La dice lunga questa data. Le aree fabbricabili sulla periferia erano state convertite in parchi d'automobili di seconda mano. File e file di catenacci parcheggiati con i musi nella stessa direzione. Musi rugginiti, pneumatici sgonfi. Guardare sempre la faccia della moglie e se la moglie piace è facile fino a che era il marito. Comincia da una Cadillac poi passa alla Buick 1926. Ma se cominci dalla Buick ti chiedono una Ford. Non è un autocarro che volete? Certo, la capezzeria è andata. Ma Avete bisogno di un salone? Musica Impegnare il cliente e metterlo sotto obbligazione e fargli sentire che ti ruba il tempo. E' gente timida non voglio andare a disturbo. Fagli sentire che ti disturbano e poi fregali! Non sono vetture che vendiamo vendiamo Rottami Dov'è la persona? Venduta per Dio come vi dicevo Rottami si vengono con le noci Ferri lucinosi bollenti nel sole Macchie d'olio dappertutto Acquirenti timidi e sospettosi assillati dalla necessità di comperare Partite anche voi per la California? Proprio quello che ci vuole per voi sembra finita ma questa fa ancora centomila chilometri File e file di catenacci Occasioni imbattibili piena garanzia E' un extra che si vengono Verso sera l'autocarro tornò dal paese, sobbalzando nella polvere tra un rumore di ferraglie. Nella luce rossa del tramonto tutta la terra sembrava sanguinare. Si era venduto tutto quello che si poteva vendere. Al guidava serio e vigile e accanto a lui sedevano il babbo e lo zio John. Speriamo che in California le cose siano meglio di qui. E perché non dovrebbero essere meglio di qui? Non saprei, ma sembra troppo bello. Ho visto quei fogli gialli di propaganda. C'è scritto che c'è lavoro per tutti, paghe alte. Hanno bisogno di raccoglitori di pesche. Qualcuno dice che c'è già troppa gente. Al, chino sul volante, tendeva l'orecchio per cogliere i minimi rumori. Sentiva insomma tutto il peso della responsabilità di aver scelto lui la macchina. La famiglia si era adunata nel luogo più importante, attorno all'autocarro. La casa, i campi, erano cose morte, cose del passato. L'unica cosa viva, attiva, era la macchina, embleba del presente e del prossimo futuro. Era questo, ormai, il nuovo focolare. Si tratta di cominciare in quel paese ricco, dove la frutta cresce da sé. Un bimbo può, ma noi alla nostra età, noi siamo quel che è stato. Siamo gli anni di inondazione, siamo gli anni di polvere, creata dal vento. La mamma, i suoi occhi marroni, avevano sperimentato parecchie tragedie. Era lei la roccaforte della famiglia, la cittadella inespugnabile. Ma saremo in grado? Quanto a essere in grado, non siamo in grado di niente. La questione è se vogliamo. Allora, visto che qui non c'è più niente che ci trattiene, meglio farla finita al più presto. Meglio partire subito. E una gran fretta prese tutti. Gli uomini si affraccendavano in tenti a radunare le masserizie da caricare sul carro. Le donne salavano i pezzi di carne. Rosa andò a prendere il grande telore impermeabile e fece portare i materassi. I bambini si erano addormentati. I bambini si erano addormentati. L'Arteria 66 è il grande itinerario dei popoli nomadi. Infinito nostro asfalto gettato sul continente per allacciare zone rosse e regioni grigie. Si adatta a tutte le pieghe del terreno. Serpeggia su per i fianchi delle montagne. Valica i crinali. Si precipita in basso e divora il terribile deserto. E irrompe nelle ricche vallate cariche di frutti e di raccolti. L'Arteria 66 è il calvario dei popoli infusi. Di gente che migra per salvarsi dalla polvere e dall'esterilimento della terra. Dal rombo della trattrice e dall'avarizia della tifondistie. Dai venti devastatori e dalle inondazioni. Da tutto questo fuggono, confluendo da ogni dove per strade secondarie. La trattrice e dall'avarizia della tifondistie. A sera sostano vicino all'acqua. Radiatori sconquassati eruttano oggetti di vapori. Ebielle impazzite martellano instancabilmente. Ascoltare con le mani sul volante, con la palma posata sulla leva del cambio, con le piante dei piedi che premono sui pedali. Tutti sull'Arteria 66, sulla direttrice di fuga, di fuga, di fuga. Lui guidava con una mano sola per posare l'altra sulla leva del cambio. Mamma, non ti fa paura andare in un posto che non conosci? Paura? Un poco, ma non voglio pensare. Preferisco aspettare. Quel che ci sarà da fare. E lo farò. Un poco, ma non voglio pensare. Sulla 66 trovi anche i due pompe di benzina sul piazzale. Muri tappezzati di cartelloni pubblicitari. Splendide fanciulle in costume da bagno. Snelle di fianchi e con le facce da bambole. Hanno tutte in mano la bottiglietta della Coca-Cola. E sorridono, sorridono, sorridono! L'esercente, tutto rosso in faccia, stava dietro le pompe di benzina. S'alzò e venne incontro. Soldi, ne avete? Certo, ci avete preso per accattoni? 50, 60 macchine al giorno contato. Tutti andavano a Ovest. Di questo passo, dove si va? Tutta gente che trasloca, con i bambini e le masserizze. Dove vanno e cosa vanno a fare? Quei che facciamo noi. Lo so, lo so, non è loro la colpa. A lavorare la terra si va in malora. Ma lo chiedo a voi. Di questo passo, dove si va a finire? Dappertutto la stessa storia. Dove si va? Dove si va? Ma perché voler sapere dove? L'essenziale andare è muoversi dove non importa. Tra poco aveva le macchine per la strada. Quelle che ci sorpassavano. Quelle che sorpassavamo noi. Sono centinaia le famiglie che come noi vanno al sud. È come un esercito in fuga. Come un intero paese che trasloca. Alleluia 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 Ora supponi che tutta questa gente, tutti noi, insomma, supponi che non si trovi impiego quando se l'ha. Io non suppongo niente. Io metto un piede davanti all'altro. E basta. Attento Attento Se ti metti ad ascoltare, senti il fruscio, il ronzio, il rumbo del traslocare di questa gente. Gli emigranti si stanno trasformando in nomadi. Erano abituati a vivere dei maghi e dei prodotti della terra. Ora sono stati spodestati, sfrattati, si ritrovano a trascinarsi per le strade senza meta. E la loro fame e la loro indigenza sono visibili nei loro occhi. Ed è sottile come un capello la linea di demarcazione tra la loro fame e il loro furore. Alleluia 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 Alleluia